Come fa un autore a capire se è pronto a pubblicare? Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi parliamo di autovalutazione. Ora, sappiamo tutti che si migliora strada facendo, che quando cominciamo a scrivere, anche se magari non ce ne accorgiamo, in realtà siamo delle pippe, è normale. E sappiamo anche che con lo studio dei giusti materiali, con il giusto approccio anche mentale, di mentalità, e con la pratica, la costanza, si possono invece ottenere dei risultati. Crescenti, che possono portarci a grandissime soddisfazioni. Io ne sono una testimonianza vivente. Rispondiamo però alla domanda che ci pone Massimo, che ci ha scritto qualche tempo fa sul canale YouTube di Rotte Narrative, a proposito di quando giunga il momento di essere pronti a cimentarsi con la scrittura di un romanzo. Come fa un autore, chiede Massimo, o un'autrice ad autovalutarsi? Mi spiego meglio, sono consapevole che tendiamo a sopravvalutare le nostre qualità, ma se volessi provare a capire il mio livello in modo oggettivo, per capire dove e come migliorare, come posso fare? Io personalmente sfrutto i vari concorsi letterari, per capire come mi piazzo rispetto agli avversari, e vado a leggere chi arriva davanti a me. È un buon metodo? Grazie e buona Pasqua a tutto lo staff. Allora Massimo, vediamo un po' di risponderti. Quello, in generale, come fa un autore o un'autrice ad autovalutarsi, è un discorso complesso, come abbiamo appunto introdotto, perché noi non abbiamo realmente la capacità di prescindere da noi stessi nel valutarci, siamo i peggiori giudici che esistano di noi stessi. Riuscire ad arrivare a valutarsi con neutralità è una capacità quasi da maestro zen, è una cosa che richiede degli sforzi, è un'umiltà e un'onestà intellettuale veramente fuormisura. Quindi non è qualcosa alla portata di tutti, non è qualcosa che si può ottenere con la propria scrittura in tempi brevi. Molto più facile è trovare gli arroganti, quelli che pensano in eterno di essere molto bravi e di magari non essere compresi dal pubblico, o al contrario è molto facile trovare coloro che si autosvalutano. Quindi quelli che di solito peraltro sono considerati migliori della prima categoria perché noi diamo molto valore all'umiltà. Un precetto cristiano che è arrivato, è trasmigrato anche al sentire comune, alla morale comune e che ci fa in qualche modo preferire chi si attenui l'impatto dei propri pregi e delle proprie virtù rispetto a chi invece le ingigantisca, le ingrandisca. In realtà in una visione perfettamente equilibrata delle cose, tanto gli arroganti quanto le persone che diminuiscono i propri meriti soffrono esattamente della stessa tipologia di problema e possono aspettarsi grosso modo gli stessi problemi. Poi una cosa è l'atteggiamento borioso e l'atteggiamento umile, altra è ingigantire o rimpicciolire i propri meriti percepiti. Molte delle persone diciamo che professano umiltà, in realtà umili non sono, non si tratta altro che di una posa per essere più socialmente accettabili da parte degli altri, ma questo è un altro discorso. Il discorso invece che mi domandi tu, circa come si fa a capire se si è pronti o meno, è appunto dipendente dall'effettiva capacità di produrre dei risultati che possano trovare un riscontro oggettivo in un determinato ambiente di applicazione. Questa è, diciamo, una definizione così verbale improvvisata di capacità, cioè di perizia, ok? Essere in grado di compiere una serie di atti capaci di produrre un risultato desiderato all'interno di una specifica area di applicazione. Essere bravi a scrivere significa saper stimare in anticipo che tipo di effetto espressivo, artistico, intellettuale, eccetera, eccetera, il proprio testo saprà produrre sui lettori, ma non sui lettori in generale, bensì sui lettori di una specifica tipologia, perché mille lettori diversi reagiranno in modo diverso allo stesso testo, ok? Quindi la capacità, l'abilità di scrittura consiste nel saper stimare cosa funziona meglio in quale ambito di applicazione, ok? Ecco perché, e questa è una cosa che molte persone non capiscono, per esempio, ed è uno dei motivi per cui io insisto tanto col concetto di target, un concetto che poi viene puntualmente frainteso. La gente dice, ma tu pensi solo alle vendite? Assolutamente no. Io penso che ogni testo debba essere costruito con una profonda competenza e conoscenza di chi siano le persone che lo andranno a leggere, perché fasce, categorie diverse di persone reagiranno in modo diverso fra loro e saranno però accomunate, avranno una minor variabilità all'interno di specifiche raggruppamenti, di specifiche catalogazioni. Per tornare a Massimo, come si può fare per capire il proprio livello in modo oggettivo? La prova dei fatti è la miglior maestra, perciò sicuramente a grandi linee il metodo che hai trovato tu può andare bene, ma ci sono una serie di se e una serie di ma che devi assolutamente conoscere se non vuoi che questo ti porti fuori strada. Tanto per cominciare, devi capire che le cose sono più complesse di come probabilmente ti appaiono. Vai in un contest di scrittura, uno di quelli simili a quelli che ho frequentato anche io durante il mio periodo di gavetta, la tela nera, minuti contati, ce n'erano forum dove tanti scrittori scrivevano dei pezzi a proposito di un tema o a tema libero, pezzi di solito racconti di una durata contenuta, poi ce li si leggeva a vicenda, si stilavano le classifiche, a seconda delle classifiche chi vi riceveva più commenti positivi, più voti o qualche è, andava su e chi invece ne aveva di meno andava giù. E allora sarebbe molto bello se il mondo fosse così semplice da avere coinvolto in un processo del genere solo la variabile dell'abilità. Sarebbe un mondo semplicissimo e facilissimo da interpretare. Ahimè non è così. Ahimè sono molti i fattori che intervengono ad avere un impatto, per esempio, sulla distribuzione delle classifiche all'interno di un contest letterario. Primo fra tutti, l'appartenenza a un target o meno, cioè i propri gusti, le proprie caratteristiche che portano le persone a reagire in modo diverso allo stesso testo. Un testo può essere un capolavoro per magari lettori di un certo genere letterario o persone che abbiano avuto una particolare esperienza per le quali quel tipo di storia va a toccare delle corde profonde, eccetera, eccetera, può avere un impatto assolutamente neutro o di noia su persone che non abbiano condiviso quella determinata esperienza di vita menzionata nel libro, oppure che non siano interessate alle dinamiche di ciò che accade in quel libro o ai contenuti superficiali. Molte persone, quando vedono che un racconto contiene un drago, dicono ok, è un fantasy, non mi piace. Magari quel racconto non c'entrava niente sul drago, cioè con i combattimenti fra cavalieri in armatura e draghi che sputano fuoco, magari invece era un racconto che, non lo so, parlava di fluttuazioni economiche oppure nel valore delle merci che improvvisamente diventano sovrabbondanti sul mercato, eccetera, era magari, quindi il tema poteva in realtà essere una riflessione economica che magari poteva pure piacere alla persona che poi ha visto però la presenza del drago ha fatto un'associazione ragionando per schematismi e si è preclusa la possibilità di divertirsi. Nota bene, non è necessario, cioè questa cosa può succedere anche se uno il racconto lo legge per intero ma alla fine il suo commento sarà no, c'era il drago non mi interessa oppure no, c'era una parolaccia non mi è piaciuto lo metto in fondo alla lista dei racconti in gara perché? Perché c'erano le parolacce e io le parolacce non le tollero quindi ti metto sotto anche se magari se non ci fosse stata questa cosa magari ti avrei messo per secondo. Capisci qual è il concetto? Le persone sono tante, le loro idiosincrasie sono diverse, siamo in un periodo in cui vanno peraltro a radicalizzarsi sempre di più le differenze fra le persone perciò va ad aumentare l'impatto negativo che hanno sulle nostre valutazioni sui nostri gusti le cose che non ci piacciono e rispetto a per dire dieci anni fa siamo molto meno capaci di riflessioni critiche di ascoltare di entrare in risonanza con le intenzioni o il senso profondo di una cosa ad andare oltre il segno per raggiungere il significato siamo molto meno capaci di farlo oggi rispetto a dieci vent'anni fa oggi se nel testo troviamo una parola che non ci piace che può essere una parolaccia ma può anche essere una parola che per la nostra adesione politica indica va a segnalare una ideologia diversa da parte di chi scrive ci fa scattare ci si chiude la vena smettiamo di essere di essere sensati e reagiamo con la pancia sta diventando sempre più facile innescare dei risultati con la pancia e disinnescare il funzionamento del cervello purtroppo e questa cosa ha dei diciamo ha un impatto ha un impatto forte per esempio nel modo in cui le persone valutano le cose io ti ho fatto due esempi macroscopici ma immaginati quanto impatto possa avere questa cosa nelle cose più minute a uno non piacciono i formaggi nel testo c'è una scena in cui il protagonista si mangia il formaggio e è un momento di intenso godimento perché aveva fame si mangia il formaggio la persona un po' schifata cioè non ha niente diciamo a livello ideologico contro il formaggio ma smette di risuonare con il personaggio gli si compromette l'empatia perché a lui il formaggio non piace e ci sono quindi tutte queste altre cose e viceversa può capitare che racconti di per sé loffi che non hanno contenuto non hanno struttura sono semplici ripetizioni di schemi applicati magari per temi superficiali che contengono magari privi di elaborazione ma che segnalano una qualche aderenza di tipo sociale ideologico politico religioso di gusto di eleganza di stile di musica tutto quello che ti pare con l'autore li fa automaticamente apprezzare di più quindi ci sono tutte queste questioni da considerare tutte quante e tutte queste vanno a ad avere un impatto sul modo in cui le classifiche in questi forum vengono stilate ce ne sono anche altre molto impattanti per esempio il fatto che ci si conosce in quei contesti lì ci sono di solito situazioni diverse che si creano quando qualcuno di nuovo viene a far parte della community e posta il proprio racconto rispetto a il racconto postato da dei membri veterani di quella community le community più strette tendono a sviluppare una sorta di loro codice interno una sorta di lì subentrano proprio delle questioni di appartenenza ai gruppi sociali per cui le prime volte si stabilisce una sorta di codice condiviso in cui viene dato per scontato che le prime volte che scrivi qualunque cosa tu scriva dal momento che non conosci ancora che le cose si scrivono così così e così e palesemente non lo sai perché non ne fai parte del gruppo sociale ancora vieni struncato in quanto non ti adatti non ti adegui a quel tipo di impostazione e poi se sei se la persona diciamo rimane lì e prendere le stangate abbastanza a lungo da in qualche modo entrare a far parte del gruppo e a diventarne un membro effettivo allora in quel caso magari anche le sue valutazioni aumentano è un processo questo qua che vi sto descrivendo che potete trasferire a qualunque altro aspetto e vedete che funziona uguale lo trovate nell'esercito lo trovate nei college americani il nonnismo deriva da questo stessa identica cosa in misura ovviamente molto minore si applica anche a queste circostanze ed è normale ragazzi è una cosa su cui non c'è una vera possibilità di scelta non so come dirvelo sono semplici meccaniche di funzionamento del cervello umano la nostra identità sociale viene influenzata dal contesto in cui ci troviamo dalle persone con cui ci troviamo e queste sono cose che già di base dovete sapere immagino che vi siate fatti un'idea di com'è il mondo di come sono le persone di come sono i rapporti umani ecco non ve le dimenticate quando partecipate a qualunque cosa stiate facendo ricordatevi sempre che l'impatto umano è forte in tutto quello che vedete perciò anche in quei contesti in cui magari ci si ponga l'obiettivo si faccia lo sforzo di non farsi influenzare dalle amicizie nel valutare chi ha scritto meglio un pezzo sappiate che se lo sforzo è grande magari si può ridurre al minimo l'interferenza magari la si può addirittura ribaltare in ti voglio bene come persona siamo amici però siccome devo stare attento a non farmi diciamo trascinare dalla mia amicizia per te nel leggere il tuo libro ti do un voto più basso rispetto a quello che avrei dovuto dare a me è capitata una cosa del genere non voglio entrare in dettaglio però si a me capita di solito quando mi trovo in queste circostanze di assegnare valutazioni più basse rispetto a quello che mi verrebbe da fare a persone che conosco questo perché conosco questo bias sociale che abbiamo noi esseri umani e mi viene automatico regolarmi di conseguenza quindi ai miei corsisti di solito non conviene che io sia membro della giuria di un contest letterario a cui loro partecipano perché se so che quel racconto l'hanno scritto loro è probabile che lo valuterò di default un po' più basso rispetto agli altri tanto poi di solito vincono lo stesso perché tutti gli altri gli danno voti alti perché quando iniziano a studiare lo scrittore speciale iniziano a seguire le dirette eccetera eccetera a un certo punto io tutti questi discorsi li affronto il aspettarsi un certo tipo di cose discriminare fra un tipo di lettori un altro tipo di lettori eccetera eccetera quindi alla lunga magari sul singolo contest no ma sulla lunga distanza la differenza di abilità emerge con molta evidenza con molta chiarezza e quindi beh tutto è bene quel che finisce bene hai capito massimo però qual è un po' il concetto vediamo se posso darti qualche altra dritta fammi rileggere tendiamo a sopravvalutare le nostre qualità ma se volessi provare a capirmi dove e come migliorare come posso fare ecco sfruttare i vari concorsi puoi farlo non soltanto per capire se e quanto devi migliorare ma anche per capire il tipo di persone come i vari tipi di persone reagiscono ai vari tipi di scrittura a un'idea a una trovata a una tecnica stilistica salti nel tempo avanti e indietro quali tipologie di lettori lo apprezzano e quali no non banalizzare appiattire il tutto a è bello o non è bello funziona o non funziona discrimina sempre per chi funziona per questi lettori funziona per questi altri magari no io per esempio di recente ho avuto una netta empirica dimostrazione del fatto che gli artifici di intreccio complessi piacciono hanno diciamo seguono un andamento che che dimostra che indica non dimostra un aumento del gradimento fino a una certa età anagrafica dei lettori e poi subisce un crollo repentino sopra una certa età i lettori si perdono non riescono a star dietro mettono si confondono non riescono a capire cosa è accaduto prima cosa è accaduto dopo anche se un determinato aspetto una determinata tecnica viene ben segnalata dal testo fa niente per quei lettori smette di essere piacevole capire queste cose capire a quali lettori piace un approccio e a quali piace un altro è fondamentale perciò più che non con il dato empirico del risultato nel concorso ti dovresti dovresti approfittare di queste occasioni di contest in cui viene data una valutazione eccetera eccetera non per cercare di ottenere la valutazione più alta possibile quelle sono cose sono cose futili sono cose che sì possono essere piacevoli ti aiutano a sfamare il tuo ego e a magari darti lo sprone l'iniezione di fiducia per andare avanti una volta ogni tanto non c'è assolutamente niente di male a patto che tu non diventi schiavo del tuo ego in quel caso diventa un altro discorso però lo puoi utilizzare ripeto non tanto per cercare di ottenere il punteggio più alto possibile ma per te per studiare i feedback che ti vengono dati e in questo una posizione in classifica può darti qualche spunto diciamo è la summa meglio sarebbe se ci fossero dei commenti che vadano a indicare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato in tal caso appunto può essere molto prezioso per abituarti a comprendere quali tipologie di lettori di persone reagiscono in quale modo a quale aspetto del tuo testo non è un caso se io proprio conoscendo questa grande varietà questa grande soggettività della lettura di diverse tipologie di lettori faccio uso di un team per i miei romanzi di beta lettori così ampio e strutturato che è la stessa cosa che consiglio di fare nello scrittore speciale con Del che è il nostro corso di accostamento alla scrittura per aspiranti scrittori professionisti ovviamente questo lo faccio proprio perché mi sono reso conto che non basta dire una cosa è bella una cosa è brutta perché ciò che è bello per me non sarà bello per te e viceversa e capire per quali persone sto facendo cosa alla lunga mi permette di prendere sempre più piccioni con un numero finito di fave e questa è una delle caratteristiche che contraddistinguono i bravi scrittori ne parleremo meglio magari in altri video per ora ci fermiamo qui arrivederci a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative mi raccomando iscrivetevi al canale e accendete la campanella mettete mi piace fate quello che vi pare ciao ciao